Effettivamente mi piace, quindi glielo dico prima di sembrare immaturo a non allontanarmi senza dirle niente, guarda mi sto allontanando perché semplicemente mi piaci. Cioè puoi anche allontanarti ma restando comunque con un piede dentro, nel senso non con un piede dentro però da infatuato, con un piede dentro da amico. Non ce la farei. Non ce la fai tu? No, ieri ce l'ho provato, eravamo al piano. Ho detto a tutti sta cosa, cioè lì si è seduta, si è sporta davanti con lo seggiolino, c'era i piedi dietro alzati come fanno i bambini, con gli occhi super aperti sul piano, io stavo così, cioè io stavo impazzendo in quel momento, cioè sta cosa qui, si è stronzata. Sì sì sì, ti piace. A un certo punto mi sono zata e me ne sono andato. Eh beh, che dove li fa? Non lo so, non lo so. Mi sento tanto una merda. È successo e quindi ti devi fare una colpa perché qua hai trovato qualcuno in cui ti trovi bene? Tu sei la bellissima persona che conosciamo noi. Grazie. 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 Grazie.